È un maggio senza pace per i servizi informatici e la loro connessione alle prestazioni sanitarie. Dopo l'attacco hacker che ha mandato fuori uso il CUP con strascichi ancora non del tutto risolti, le difficoltà si sono allargate anche all'anagrafe pesaresi di via 11 febbraio, come spiega ai nostri microfoni Mauro Mariotti, cittadino, che segnala il disservizio. Io, come penso tanti altri, ho il medico di base che va in pensione, dovevo andare, se non altro. Praticamente sono tre giorni che cerco di farlo inutilmente, sono andato per due giorni, ho visto delle grandi file e quindi sono andato via. Stamattina sono tornato un quarto d'ora prima dall'apertura e quando praticamente era arrivato il mio turno è uscita fuori una signora, una povera impiegata, che ha detto che non funziona il collegamento internet, che già ieri era successo per un'ora e mezzo, erano stati fermi e quindi poi ho mandato una protesta perché c'è una responsabilità penso del fornitore internet, c'è una responsabilità dell'ufficio tecnico, dell'azienda sanitaria e dico se non altro potevano mettere un cartello per dire che avevano questi problemi in corso che magari uno quando se ne accorge decide se aspettare o tornare un'altra volta. L'URP ha risposto alla protesta del signor Mariotti riferendo come si sia verificato una problematica importante che ha interessato linee telefoniche e informatiche del territorio legate al distretto di Pesaro, non dipendente dall'azienda. I gestori esterni Fastweb sono intervenuti coadiuvati dai tecnici dell'azienda al fine di risolvere la problematica che sta creando disagio a pazienti e agli stessi operatori sanitari e amministrativi. Azienda che si scusa assicurando il massimo impegno per il ripristino più celere possibile del sistema.